Da oltre dieci anni la cooperativa sociale Pietra di Scarto lavora in questo bene intitolato a Francesco Marcone, confiscato nel 2010 al clan cerignolano Pierulli Ferraro per generare un'azione di antimafia attraverso la formazione e l'inserimento lavorativo di persone che arrivano da percorsi di fragilità e marginalità, tante le attività che arricchiscono questo luogo, ora completamente ristrutturato, tra cui la coltivazione e trasformazione di pomodoro attraverso una filiera corta e trasparente basata sui principi del commercio eco e solidale, della giustizia sociale con un'attenzione particolare alla sostenibilità ambientale. Come vedete alle mie spalle stiamo coltivando pomodoro, in particolare datterino rosso e datterino giallo e l'altra grande novità che a breve vedrà la luce è il laboratorio di trasformazione alimentare che ci porterà appunto a trasformare la materia prima in passata, in pelati, in prodotti al naturale, tutto a base di pomodoro e quindi riusciremo a chiudere finalmente l'intera filiera dal campo alla commercializzazione. Ed è un elemento molto importante perché significherà convogliare ancora di più persone che vengono da percorsi di fragilità, uomini, donne provenienti da situazioni di giustizia piuttosto che di sfruttamento, piuttosto che di dipendenza, ad avere un'opportunità occupazionale, quindi a riuscire a reinserirsi all'interno della comunità cittadina lavorando e quindi riprendendosi il proprio ruolo di persone attive sul territorio. Non solo pomodoro, si lavora anche in altri periodi dell'anno con altri prodotti? Sì, infatti come sempre vedete alle mie spalle ci sono gli ulivi perché noi produciamo pomodoro consociandolo all'ulivo e in particolare queste sono belle di Cerignola e a ottobre raccogliamo la bella di Cerignola che poi trasformiamo, unico prodotto top del territorio che noi diffondiamo attraverso la vendita su tutto il territorio nazionale e anche fuori a marchio Laboratorio di Legalità Francesco Marcone che è il nome di questo luogo, di questo bene confiscato che da dieci anni gestiamo.